Operazione a UALANET, associazione per delinquere finalizzata alla permanenza illegale di clandestini in Italia, il successivo ingresso in paese esteri, favoreggiamento di immigrazione clandestina, scopo di lucro, uso di documentazione falsa, corruzione di incaricato, di pubblico servizio e falso ideologico in atto pubblico. I rati contestati a 15 cittadini extracomunitari di etnia somala. A seguito delle specifiche indicazioni fornite dagli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la squadra mobile della questura di Bari, la polizia svedese ha catturato Barkad Dair Khalid, detto Khalid, di Bari, nato in Somalia, classe 93. L'uomo, residente a Bari, sarebbe uno dei più stretti collaboratori di Ismail Oley Hussein. Khalid, attento dalla misura della custodia cautelare in carcere, è stato tratto in arresto in esecuzione di mandato d'arresto europeo. Un'operazione questa che nella giornata di ieri aveva portato a diversi arresti tra Bari, Catania e Salerno.